E che si mangia oggi? Prepariamo insieme un risotto buonissimo con zucchine e gamberetti. Per preparare il risotto a zucchine e gamberetti iniziate con la pulizia delle mazzancolle. Quindi eliminate la testa, il carapace e con l'aiuto di uno stecco in legno il filo nero. Mi raccomando, questa è un'operazione importantissima. Sciacquate le mazzancolle sotto un getto di acqua corrente e tenete da parte. Nel frattempo preparate il brodo vegetale. In una padella versate l'olio e soffriggete uno spicchio di aloe in camicia. Aggiungete le zucchine precedentemente tagliate a rondelle. E il basilico. Aggiustate di sale e pepe. E fate insaporire per qualche minuto. Quindi aggiungete un mestolo di brodo vegetale e portate a cottura. Quando le zucchine risulteranno ben cotte, le frullate con un frullatore a immersione. Fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. A questo punto prepariamo il risotto. Quindi nella stessa padella tostiamo il riso. Dopo qualche minuto sfumate col vino bianco. Proseguite la cottura del risotto aggiungendo brodo vegetale caldo all'occorrenza. Mescolate e a metà cottura aggiungete la crema di zucchine. Mescolate fino ad incorporarla. Assaggiate il risotto e aggiustate di sale e pepe. A questo punto unite le mazzancolle. E lasciate cuocere per un paio di minuti. A fine cottura, se gradite, aggiungete del parmigiano grattugiato. Mescolate e mantecate per bene il risotto. Aggiungete il prezzemolo tritato. Mantecate. E lasciate riposare il risotto per qualche minuto. Io ci ho aggiunto un po' di zucchine tenute da parte. A questo punto il vostro risotto è pronto per essere servito e gustato. Buon appetito, alla prossima videoricetta. Ciao!